La marijuana non esiste più. La marijuana non esiste più. Ma questa è marijuana così grossa. Ci puoi aiutare a piazzarla? Senta una femmina vicina da una famiglia. L'ultima femmina di marijuana sulla terra. La tengono nel Vaticano. Poi ce l'avete un piano? Pensavamo di andare al Vaticano. Entrare e rubare la piantina. E' piena di merda.